andy ciao andy stefano stefano ok pendrive oggi nessuno del vivo no anche perché noi siamo due su cinque voi siete un gruppo si sono una band e purtroppo tre di noi per problemi lavorativi non sono riusciti a venire la mattina quindi siamo venuti noi nella scoperta si con me c'erano i commedi sulla ragazza prima voglio che diventi qualcuno dagli coraggio a sta figlia allora come vi chiamate voi? aridopachi come? aridopachi tutto attaccato? sì 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 aridopachi perfetto di dove siete? Livorno oh ragazzi allora i gruppi di Livorno sono tosti eh sì quelli di Livorno quelli di che ruolo avete nel gruppo? basso e tastiere non c'è neanche un cantante ma che allora cosa ascoltiamo? parenti serpenti parenti serpenti? sì allora parenti serpenti sentiamo questo parenti il serpente che soccopiamo così lo sentiamo per bene vai va bene vai non cantate voi no al massimo altro tempo fosse un'erro' penso io solo è solo cantando il ser Cherova ma che hai mountain e quindi lo soccopisco ciao Questa rabbia che ti sale, l'abbia c'è anche da star male impedisce di pensare, che ti viene bene e male tutto il vento dentro te, ed è appunto quello che non è stato facile a prego di fagliare parenti, sepperti, amici assalati, quel tuo mondo è fiamato, quella che non chiamano parenti, sepperti, sangue assalato, dal grado tu ci svegli, aspetta, spigliore Nel momento del bisogno capisci chi è il corno e con le egoiste si spacciano per il pezzo degli ultimi che svolta a forza il canavarne la tua rabbia se non c'è il cambiamento questo mondo che non vale costruito troppo ma ti costringe a fuggire in questo mondo troppo smir grande odio dentro te, un potere forte e bello da sorriso a quelli che hanno ucciso proprio a te non credo ma non mi cacchè, non, non la da te nella mente che apperò, non mi odio troverò parenti, sepperti, amici assalati, quel tuo mondo è fiamato quella che non ti hanno avuto parenti, sepperti, sangue assalato, dal grado tu ci svegli allora, l'altra parte di Livorno non mi aspettavo altro che questa musica perché a Livorno siete tutti tosti tra l'altro, ci avete suonato in Botteghida o Ombretta Fallari? noi ancora non ci abbiamo suonato in Botteghida conosco il posto bella musica io il barbetta lo conosco, Ombretta Fallari è una di Livorno bravi toscani di Livorno, Luciano Sansoni mi sembrano abbastanza incazzati, Beatrice Ulmi la musica supera la voce ma la sottomette, in effetti sì è un mixaggio questo sì, lo so, chiediamo scusa bisogna che questa calata anche mentre si canta venga un po' ammortizzata come Nigiotti non è bello sentirla anche Pelufi, Fiorentino Rocker ma quando canta lo fai in italiano non si capiscono spesso le parole parola di Livornese doc tanto, ok non la sento completamente sì, perché l'audio è quello che è perché andiamo con questo grande Andrea chi è Andrea? io questa è Chiara della Bella la conosci? sì sì sì, CDB, ciao ah, CDB la conosco ah, ok allora metal giusto, ruggine niente di nuovo è vero, niente di nuovo però, però devo dire che chiaramente la vostra musica ha, soprattutto oggi una funzione dal vivo cioè nel senso non ha una ragione di essere molto su un disco perché i dischi non se ne vendono più i dischi io vi do un consiglio se dovete fare un disco fare un vinile e venderlo durante i concerti ah, ok e fare tanti concerti l'investimento che vi dico è un video, un videoclip che costi poco è un vinile è un progetto esatto tutto in cantiare stiamo lavorando per quello perfetto e attualmente appunto siamo in studio per questo progetto questo è il primo di altri dieci brani stiamo spingendo su questo il video dovremo iniziare le riprese credo a marzo o male male aprile quindi tutto in tutto in cantiare perfetto lui vuole una foto? si facciamo la foto certo altrimenti vieni altrimenti e che cavolo ok ciao ciao Andrea ciao 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 Red a Rido Pachi di Livorno a Rido Pachi di Livorno